Ringrazio la società per aver allestito la Michele, non era semplice, è un test che abbiamo voluto fare con lo staff e con tutti che volevamo giocare, è un test importante per mettere nelle gambe minuti per tutti e quindi siamo contenti di essere venuti qua a giocare e di aver fatto una buona partita. È stato un test positivo, anche chi ha giocato meno ultimamente, alcuni giovani mi sono piaciuti, l'atteggiamento è stato positivo, devo dire che sia il primo che il secondo tempo la squadra mi è piaciuta, è stato una buona amichevole e quindi lunedì quando riprendiamo, riprendiamo a lavorare forte per preparare la partita con il Crotone. Il gol è stato bello ma potevamo averlo fatto anche prima, abbiamo avuto qualche occasione, in questo momento però questo creiamo perché anche oggi abbiamo creato qualche situazione importante nel primo tempo, in zona di rifinitura qualche cosa è venuto a mancare e se devo dire questo è anche oggi il punto su cui lavorare, però mi ha fatto un buon gol, abbiamo preso un gol bello anche da parte di loro, un grande gol di Crotone, però nel complesso è stata una buona amichevole, corretta, bello anche le due tifosserie, è stata una buona giornata, io penso che da oggi usciamo con un migliorati e cercando di andare ora incontro alla partita di sabato, arrivandoci nel miglior modo possibile. Partita importante, lo sappiamo, noi poi dobbiamo assolutamente rimediare alla brutta figura fatta sabato a Como, dove non abbiamo fatto bene assolutamente, ci sono responsabilità nostre, per questo anche venire qua oggi era proprio per arrivare, per fare un buon test, abbiamo lavorato nel mezzo al campo bene e quindi questo ci avvicina alla partita con la consapevolezza che possiamo percorrere questa strada.